Il primo è che oggi per la prima volta io sto chiedendo a tutti i tempi locali di darmi una mano nel progettare una rete di servizi di trasporto sul territorio regionale, su tutto il territorio. Vi spiego come avveniva prima la cosa. Innanzitutto chiunque di voi si aspetterebbe che poiché la regione per legge ha il compito di progettare la rete di servizi su tutto il territorio regionale, qualche uno di voi si avrebbe aspettato che la regione si fosse dotata nel passato delle capacità di uomini e mezzi per progettare. Non è stato tanto così. Quindi sono state costruite le cosiddette stazioni dell'arte che costano 100-120 milioni una sola stazione. Ma vedete l'anomalia con questo? Voi potete fare anche una stazione dell'arte di 100 milioni. Da quel momento ogni anno dovete avere nel vostro bilancio i costi della manutenzione ordinaria e quelli che sono i listi della manutenzione straordinaria. Ma invece quando voi fate una stazione di 100 milioni e non le avete messi in bilancio ci stanno due possibilità sottose. La prima è che la stazione va di Maurras e che quindi i soldi dei cittadini negli anni vengono completamente sparsi al vento. La seconda è che se volete mettere la manutenzione i soldi li dovete far uscire da qualche parte e poiché sono stazioni che hanno a che fare con la rete dei trasporti andate a ridurre il numero di servizi che sono i soldi dei cittadini. Ho messo a punto un gruppo di persone con un sistema aswell e software che ha tutto lo strumento del sistema geografico della regione, quindi c'è un sistema informativo territoriale su cui noi stiamo andando a scogliere le vigenze specifiche di tutti i territori partendo da un principio che è stato un po' dimenticato. La Costituzione ci dice che noi dobbiamo assicurare la mobilità ai cittadini. Stiamo lavorando per fare fin anche un servizio che in italiano si dice porta a porta. Cioè in alcuni casi stiamo lavorando per minimizzare i costi, aumentando l'efficienza, evitando di avere degli autobus o dei treni che camminano con il 5% dei passeggeri a bordo per arrivare a creare anche il pulmino di 10 o 20 posti che passa davanti alla porta delle persone e se li va a prendere. Quindi cosa che ci viene inserita anche della legge nazionale è che oggi ho l'obbligo di fare entro settembre. Quindi entro settembre ho l'obbligo di riprogrammare su tutto il territorio regionale, tutte le e tutto il servizio di trasporto, quelli dei comuni, all'interno dei comuni, tra comuni, quello su ferro, quello sulla gomma, quello su mare, tutti i servizi della regione campagna. E quindi ho l'obbligo morale di far circolare quanto più possibile il mio messaggio, aiutatemi a tentare per la prima volta di creare una rete dei servizi che sia dettata dalla evigenza del cittadino e non dalla evigenza economica di altri. Tenete conto, in questo quadro lo dico a tutti, sapete la regione campagna e quindi noi cittadini quanti soldi mettiamo per i contratti di servizio pubblico in campagna, mettiamo ogni anno ordine di grandezza 650 milioni di euro. Io li converto sempre in miliardi di lire per questo bicchiavino e quindi converto subito. Questa cifra ai tempi miei era qualche cosa? 650 milioni di euro che noi chiamo alle aziende di trasporto sul territorio che in più incattano anche i biglietti. Quindi sia i noi cittadini campani gli diamo 650 milioni di euro, in più incattano i biglietti che sono altri 200-300 milioni di euro, quindi vuol dire che la campagna ci mette un miliardo di euro per rispettare un principio fondamentale della Costituzione che è fornire la mobilità ai cittadini. In questo ambito c'è un problema enorme che io sto affrontando. La mangiatoia passa, un approccio di una società che si è degradata nel tempo, in cui l'etica e il rispetto, il bene degli altri non si conicono sempre con il bene proprio e viceversa, ha portato a un livello di evasione che è impressionante. Parliamo di ordini di grandezza di un'evasione tra i 30 e i 50 milioni di euro all'anno. In quest'ambito sto intervenendo in un modo molto duro verso le aziende, verso i comuni capologhi e le province che non portano il loro lavoro nel modo appropriato per quanto riguarda vigilanza e controllo sui contratti. Sto per la prima volta cercando, e qui abbiamo i rappresentanti delle forze dell'ordine, di chiudere un accordo con le forze dell'ordine, perché sono stato tante volte a fianco ai miei controllori, non ci credevo nemmeno io. Allora vi spiego il problema, sono stato a fianco ai miei controllori, le prime volte non ci credi. Il controllore va vicino a una persona e dice, lei tiene il biglietto, e quello sorridendo dice, no, che sto parlando di una persona per me. Poi vi posso parlare di agli altri cani. A quel punto, quello che io ho detto ai miei controllori, non dite che fate la multa, invitati a scendere alla prima firmata. Quindi il controllore dice, la prego allora, se non è il biglietto, alla prossima firmata scende. La persona dice, io non scendo, sempre sorridendo. Allora il mio controllore dice, mi pia il tuo documento perché io gli devo fare la multa. Io non c'ho il documento. A questo punto, perché i nostri sono polizia amministrativa e non giudiziari. Solo se fanno così, li denunziano domande alla procura vera. Allora, vi ho fatto un piccolo flash, che ne potrebbero parlare degli altri, però fondamentalmente il flash è la richiesta, la concilia che io vi chiedo, i tinders, quindi le loro giunte, eccetera, eccetera. Associazioni di cittadini. O cittadini singoli che abbiano particolari tipi di esigenza. Vi prego di farmi avere le vostre richieste, perché faremo di tutto per fare in modo di includerlo nella nostra progettazione dei servizi e riuscire a ritagliare dei servizi che siano, diciamo, legati alla reale efficienza. Veniamo ora al discorso delle infrastrutture. Allora, noi abbiamo l'altra problematica e la seguente. Per quanto riguarda le opere infrastrutturali, io sono in fase di, diciamo, finalizzazione della progettazione delle opere su tutto il territorio regionale. Quindi stiamo parlando delle strade, stiamo parlando delle ferrovie, stiamo parlando dei poli logistici, stiamo parlando dei porti. Sto andando nel chiudere il programma delle infrastrutture e preparare il piano 2014-2020 per l'Unione Europea. Quindi il secondo messaggio a tutti gli enti locali ai sindaci. Sono vicino a loro, nel caso si invietano a individuare delle opere che avendo interesse di più comuni, noi riusciamo, fra virgolette, a inserire nella progettualità delle infrastrutture. Tenete conto in questo come informazione che l'Unione Europea ha dichiarato che per quanto riguarda il 2014-2020 non vorrà mettere dentro le strade. Io sono Presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilità e Governo del Territorio di tutte le regioni italiane delle province autonome e quindi ho già, attraverso la mia Commissione, che ovviamente essendo tutte le regioni italiane ha nella conferenza unificata un rapporto diretto con il governo anche in termini legislativi, abbiamo la possibilità in questo modo di avanzare all'Unione Europea e di ripensare su questo, perché io lo reputo inappropriato. E comunque sto suggerendo che anche se loro non volessero riconfermare la possibilità nel piano 2014-2020 di inserire strade, di far passare un progetto nazionale di sicurezza stradale, che è un altro grande problema che abbiamo dove ci stanno i nostri giovani, ci sono le nostre persone che rischiano la vita perché in molti casi le nostre strade non sono sicure. E quindi l'altro elemento che io sto facendo è di chiedere un piano sulla sicurezza stradale, avendo introdotto già l'intesa generale quadro che dovrei andare a firmare entro la fine del mese di giugno con il nuovo ministro, con il ministro Luppi, con il quale siamo già incontrati diverse volte, in quel piano io ho già fatto mettere un pacchetto di 100 milioni di euro per quanto riguarda un piano che intervenga sulla sicurezza stradale. Allora, risposta sullo problema che ha sottolineato il senso e che è il vostro conoscente. Immediatamente appena sono venuto a conoscenza della situazione in termini di un caglio, perché quando ho avuto modo di discutere del problema anche con il Presidente della provincia, la novità è che abbiamo interagito con il Presidente della provincia più forte e abbiamo fatto in modo che è stata presentata una richiesta, una perizia di variante alla società per fare in modo di disincagliare la situazione attuale per quanto riguarda il contratto in corso, fermo restando che però contemporaneamente nell'ambito dell'intesa generale quadro io ho inserito un altro formone che non potevo mettere in modo dettagliato, che sarebbe quello di complemento per chiudere l'opera, di cui abbiamo parlato altre volte con il Sindaco. Quindi se la cosa va avanti, da una parte dobbiamo disincagliare la situazione attuale della stazione appaltante, dall'altra dobbiamo andare al completamento dell'opera e quindi utilizzare quelli che allo stato attuale sono fondi nazionali, perché non avremmo i tempi poi del 2014-2020, in particolare corrizio che le strade non ci siano, quindi l'unica possibilità allo stato attuale è cercare di ottenere questa disponibilità economica in base a quelli che sono i fondi nazionali. L'intesa generale quadro a cui fa seguito l'accordo di programma è quello nel quale noi mettiamo tutte le diverse voci che fanno riferimento alle attività che noi vogliamo sviluppare. Allora, innanzitutto io le dico quello che so io, in modo tale che almeno che mettiamo in sintonia, perché sennò a volte le notizie ovviamente si fargono in modo inesazzo, poi se le vuole io le posso dare conto delle informazioni che vi ho trovato. Allora, innanzitutto l'affalto è stato assegnato il luglio del 2007, cioè l'amministrazione provinciale di Benevento stipula il contratto di affalto con l'impresa Zacca di Costruzione SRL per l'importo netto per i suoi lavori di Euro 2.217.000. Questo è quello che a me risulta dalle carte. Quindi lei parla e ovviamente è inutile dire... E che ho già fatto i miliardi di euro? Vabbè ma io non dico questo, io dico... Mi perdono, mi perdono. Io non si fa bene, l'anno finanziato 36, l'anno 7 miliardi di euro, ma scusate noi non possiamo solo finanziare. Io l'ho apportata con molta... Mi perdono, mi perdono, guardi io non è che non capisco il risentimento. Il discorso è che una cosa è il risentimento, una cosa fa il punto della situazione e vedere poi se lei come cittadino mi può suggerire di fare qualche altro atto oltre a quello che la legge mi consente di poter fare. Perché se no ritorniamo al problema di prima. Una cosa è la teoria e una cosa sono le leggi che ci siamo date. Che il contratto è partito nell'anno 2007. se qualcuno ha degli altri dati per dirmi che è sbagliato, io ne farò e verifico. I lavori vengono consegnati con un termine di consegna entro il 28-12-2008 con 540 giorni di attività. Problematiche in corso d'opera. Interferenze con una condotta snamma, quindi il progetto non era stato gestato più bene. Peggioramento dello Stato all'intero tratto nel 2005-2006 dovuto a delle frane per condizioni medio avverse. Quindi per te le sto facendo degli esempi. Dopodiché viene proposto di spezzare in due lotti. Un primo voto pari a quello assentito nel contratto precedente, garantendo le opere previste in progetto, ma fino alla mazzeria caccese, rendendo funzionato il primo tasso di chilometri 4. Un secondo voto restante di 11 chilometri fino a Calise. Il tutto è rappresentato, eccetera, eccetera. La provincia di Benevento ha postato risorse finanziarie per un importo pari ad euro 400.000. Qual è la sintesi della situazione? La sintesi è la sequenza, sicuro le elenco tutti gli atti fatti anche da parte della regione. Allo Stato attuale l'intervento che ha avuto l'attenzione dell'Uber e l'organizzatore di controllo, l'Uber sotto la richiesta mia di chiarimento di tutte le situazioni incagliate, il 12.01.2011, ha verificato l'incaglio del progetto e per quanto riguarda la problematica dell'esecuzione dei lavori interveniva anche una nuova normativa tecnica, per cui il dato che sono cambiate norme leggi, per cui era necessaria una verità di variante. verbale 5.04.2011, fatto presso la provincia. Allo Stato attuale, come vi dicevo, l'intervento oggi è sospeso e l'amministrazione providenciale di Benevento ha affrontato una perizia di variante che abbia sottoposta l'approvazione dell'impresa abbastatrice. Questa è la situazione di fatto. Quindi quando parlavo prima del secondo tratto, cioè degli ulteriori soldi, perché questa opera è stata divisa in due lotti, le desidero chiarirle, se è possibile da parte mia, un concetto. Stato attuale, oggi la legge italiana prevede la funzione di stazione abbastante, che è quella lì che gestisce tutte le attività contrattuali, dall'A alla Z in piena autonomia, nel senso che c'è un responsabile unico del procedimento che viene nominato all'interno dell'amministrazione, l'amministrazione gestisce il contratto e ne risponde, da un punto di vista delle responsabilità civili, amministrativi e verali. Allo stato attuale, il discorso da parte della Regione non è che la Regione abbia autorità per intervenire nel processo come tale, perché non essendo un'estazione abbastante non abbiamo autorità per poter intervenire nel discorso contrattuale che è tra la ditta e la provincia come stazione abbastante. Noi possiamo fare il controllo sulla spesa, che è quello che abbiamo fatto, tanto che è bloccato. Cioè io le sto dando... Oggi stiamo dicendo che è incagliato. Perché è incagliato? Perché è stato fatto il controllo. E una volta che si è fatto il controllo si è verificato che la cosa è incagliata, per cui è bloccato. E se le cose non vanno avanti, chi ha fatto questa... ha preso e ha temuto la responsabilità di stazione abbastante, ne risponderà nelle sedi dovute, nei modi dovuti, ma non è che la Regione è la procura penale, è la forza dei conti, è carabinieri, è finanza, per cui noi possiamo arrivare e come Regione, con una grande scimitarra, tagliamo la testa alle persone perché sono cattive, è carabinieri. Allo stato attuale quindi, poiché esistono delle sorgenti di finanziamento a livello nazionale di diversa natura, sono diverse sorgenti di finanziamento a livello nazionale e il mio sforzo è quello di cercare dei pacchetti di finanziamento in cui non vado a esplicitare nome e cognome di tutti e in questo pacchetto io riesco poi, nella programmazione di dettaglio regionale, a inserire la soluzione di alcuni dei gravissimi problemi che mi sono stati lasciati alle spalle. Io le dico che proprio perché manca l'esercito alle spalle, una cosa è la dichiarazione che può fare qualcuno di dire papà, tu stai pensando più agli altri fratelli e non a me perché è un'affermazione, ma c'è un problema di fondo, a me non arriva la progettualità, io ve lo devo dire in faccia. Avete capito qual è il problema? Proprio perché io non ho l'esercito alle spalle, proprio perché ci sono una serie di condizioni al contorno, vince chi arriva con una condizione di progettualità. Oggi quando noi andiamo a chiedere i soldi, quei pochi che ci stanno, se io vado con un foglietto di carta di un'idea messa giù su un foglietto di carta, o vado con un progetto definitivo, o figurato, un progetto esecutivo, la mia probabilità di vincere sul tavolo di acquisire i soldi e di combattere con altri che a livello regionale vogliono altre opere, è maggiore. E io non ho l'esercito alle spalle, quindi quello che lei dice, io lo colpo appieno, ma ve lo devo dire nel senso della sincerità giusta di un rapporto franco che va nel costruire e non nel distruggere. Signori, ripete, vedete di attivarvi anche voi per farmi arrivare dei progetti che siano dei progetti, avete capito? Per la sempre c'è ragione che poi vediamo come lavorare insieme, ma io questa progettualità oggi, ho difficoltà a mettere progettualità, ha capito? Io ho nel mio piano alcune opere che stanno a livello di studio di fattibilità. Ci stiamo spiegando che sto dicendo? Non mi dovete dire soltanto mi sento abbandonato. Io non vi voglio abbandonare, anzi sto qua per dirvi che più il territorio si sente abbandonato e più io mi sto a fianco per un passo proprio caratteriale mio. Però, devo poi trovare delle persone che dall'altra parte, come me, non dormono la notte per cercare di gettare giù qualche cosa che siano poi la concretezza progettuale. E in questo, ripeto, teniamo conto del grande elemento di dare lavoro alle persone. Il signor Assessore deve ritornare a Napoli, alle 9.30 era qui, 9.30 minuti, quindi colpa nostra se abbiamo iniziato con ritardo, però scusatemi un attimo. Io ho ascoltato con interesse tutte le accuse rivolte alla Ralletta Regione. Mi associo volentieri. Però scusatemi, ma dove sono gli altri sindaci dei comuni di Mitro? Io personalmente ho invitato tutti. Li ho chiamati io uno per uno. Allora questo interesse addirittura passionale per il nostro territorio, dove sta? Dove sta? Noi confiniamo... Certo, infatti, ho apprezzato la sua presenza, sì. Bene, noi dobbiamo fare il nostro mea curva. A noi, tolto le belle parole e tolto un 30, 40, 50, 100, non ce ne prega assolutamente niente, perché siamo l'un contro l'altro al mare. E questo è un errore gravissimo che non fa crescere né noi singolarmente e né il territorio. Quindi questo ci deveva dirlo. Meno tutto in presenza di colleghi sindaci, lo manderò a dire, come è mia abitudine, agli altri colleghi sindaci, perché la loro assenza qui è stata fortemente, come si dice, apprezzata. Va bene, sono 10 piccolette. Vi ringrazio, vi ringrazio naturalmente il signor Assessore. Sono certo che non ci abbandoneranno. E di non c'è dubbio. Grazie. 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 Grazie.